Musica Le famiglie calabresi sprecano ogni anno 500 milioni di euro di cibo e nel periodo natalizio si registra un vero e proprio picco, quasi 25 euro dalla tavola di ogni famiglia si trasferiscono direttamente nella spazzatura. E' quanto denuncia il Codacons Calabria, secondo cui nella regione 1,5 milioni di euro passano dal frigorifero alla discarica. Si tratta di una perdita alimentare, afferma Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale Codacons, che costituisce un paradosso economico, politico e sociale. Nel corso del 2017 ogni famiglia calabresa ha gettato in media nel bidone dei rifiuti circa 500 euro di alimenti, oltre 40 euro al mese di frutta, verdura, pane, bevande, carne, altri generi di cibo sprecati immotivatamente. Ben 1,5 euro al giorno per ogni singolo individuo, un vero e proprio schiaffo alla miseria, una miseria purtroppo sempre più dilagante nella nostra regione. E' stata la mensa diocesana dei poveri dove opera l'associazione Casa Nostra ad ospitare il pranzo che la questura di Cosenza ha voluto offrire ai meno abbienti. Un'ottantina di persone sono state servite dagli agenti della polizia che si sono impegnati anche in cucina. E' segno di vicinanza alla gente, esserci sempre non è solo il motto della polizia di Stato, ma è effettivamente quello che un poliziotto fa per l'altro. Non siamo solo in funzione repressiva, è anche la repressione il nostro obiettivo, ma oggi vogliamo dimostrare la solidarietà a chi ha bisogno e ce n'è tanta di gente che ha bisogno. Presente anche il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, il capo della polizia è stato rappresentato dal prefetto di Spenza. La polizia fa tantissima inclusione sociale e civile. Noi non stiamo lì a reclamizzare quello che cerchiamo di fare per aiutare il prossimo, ma tanta parte della polizia si occupa quotidianamente di queste cose, di assistere non soltanto i propri appartenenti o i familiari dei propri appartenenti in difficoltà sanitarie, sociali, economiche, ma anche di aiutare proprio il prossimo, secondo il detto cristiano. La benedizione è stata impartita da Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che ha lodato le iniziative della polizia. Io lo sono testimone, come in Italia stanno cercando, a di là della loro professione, del loro compito, del loro ruolo, di essere anche uno strumento per incontrare le persone, per offrire delle opportunità, dei riferimenti, degli spazi diversi. Questo mi sembra importante sottolinearlo. Don Luigi Ciotti ha parlato anche della povertà che lo preoccupa di più, quella relazionale. La povertà che ancora di più mi inquieta, paradossalmente, non è solo quella culturale, non è solo quella materiale, è la povertà relazionale, è la solitudine di tanta, tanta gente. Si vive accanto ma non si vive più insieme, si sta perdendo e sfidacciando il senso della comunità in molti contesti e in molti territori. E la solitudine porta ansia, porta fragilità, porta paura. In Calabria oltre 100 ricercatori, tecnologici, tecnici e amministratori lavorano nelle sedi delle CNR. Precari ormai da anni, svolgono attività di ricerca in molteplici settori, dall'intelligenza artificiale alle scienze neurologiche, all'inquinamento atmosferico e protezione idrogeologica ai big data, alla tecnologia della membrana. E' quanto afferma il consigliere regionale Carlo Guccione, che ha presentato una mozione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, in merito alle prospettive di stabilizzazione del personale precario del CNR e degli enti pubblici di ricerca. Il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha fatto visita ieri all'aeroporto Sant'Anna di Crotone, nell'ambito del cantiere Crotone Rapporto alla città. Sulle cose fatte, avviate e messe in campo per la città pitagorica. Oliverio è stato accompagnato nel turco rotonese dal sindaco Ugo Pugliese, dalla consigliera regionale Flora Sculco e dall'assessore regionale Francesco Russo. Abbiamo creato le premesse per mettere le ali all'aeroporto Sant'Anna, ha detto, sottolineando inoltre che sono ben 181 milioni di euro stanziati dalla Regione Calabria per lo sviluppo della città pitagorica. Successivamente Oliverio si è recato in comune, dove era in programma la firma dell'accordo con l'ente per la realizzazione del progetto Antica Crotone, ma il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo non si è presentato e dunque la firma è saltata. Di fatto si bloccano i 61 milioni e 700 mila euro destinati alla realizzazione dell'importante progetto, anche se il sindaco del capoluogo, Ugo Pugliese, nel suo intervento ha sottolineato di essere stato contattato dal Ministro Franceschini e di aver avuto assicurazioni che la firma slitterà solo di qualche giorno. Il presidente di Ance Calabria, Francesco Berna, è stato eletto all'unanimità per il prossimo triennio presidente nazionale del Comitato per i problemi del Mezzogiorno e delle isole dell'Ance. Berna, che raccoglie il testimone da Giovanni Battista Perciaccante, attuale presidente di Ance e Cosenza, assumendo la guida dell'organo dell'Associazione Nazionale Costruttori ed Ili, entra anche di diritto nell'esecutivo della stessa Ance. Non c'è riuscito il presidente della Regione Calabria a rendere operativa la sede calabrese a Bruxelles, che è rimasta, così come in passato, un costo inutile a spese dei cittadini calabresi. E' quanto afferma l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, riferendosi alla sede di rappresentanza della Regione Calabria, nella città che ospita il Parlamento europeo. A luglio viene pubblicato un avviso pubblico per la selezione di cinque consulenti, di supporto al coordinamento tecnico delle attività di programmazione settoriale e territoriale del Port Calabria FESR FSE 2014-2020 e la sua integrazione con la cooperazione territoriale europea per la sede di Bruxelles della Regione Calabria. Siamo quasi a fine dicembre ed ancora nessuna selezione è stata effettuata, lamenta la Ferrara. Anzi, ad ottobre viene sospesa la selezione fino a data da determinarsi, così come è possibile apprendere dal sito Calabria Europa. La sede non ha quindi, aggiunge Laura Ferrara, un organico effettivo ed ufficiale da novembre 2015. Il 69,18% della popolazione calabrese over 15 ha la patente auto o moto, ma se si leggono i numeri in ottica di genere il divario è enorme. Secondo un'analisi elaborata da Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a livello regionale solo il 52,27% della popolazione femminile over 15 ha una licenza di guida valida, mentre se si guarda agli uomini la percentuale arriva all'81,80%. La provincia della Calabria, con la maggiore percentuale di residenti patentati, è Catanzaro, 71,12%, seguita da Vibo Valencia, 70,28%, e Reggio Calabria, 69,61%, quelle con la minore percentuale, Cosenza, 69,03%, e Crotone, 63,33%. È stata presentata la nuova campagna che accompagnerà il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Catanzaro. Il progetto è stato illustrato dall'assessore all'igiene e all'ambiente Domenico Cavallaro, dal capo di gabinetto Antonio Via Piana e per conto della SIECO, ditta appaltatrice del servizio, dall'ingegnere Maria Rosaria Mangiatordi. Il tutto partirà il 18 dicembre, prevede un nuovo calendario di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze. Il nuovo calendario è un apposito puscolo contenente tutte le informazioni utili per eseguire una corretta raccolta differenziata, sono in fase di distribuzione alle famiglie. Assore Cavallaro, lei si è appena insediato, il suo incarico parte con questa nuova campagna di comunicazione per conto riguardo alla raccolta differenziata, partendo comunque dai buoni risultati già ottenuti. Infatti, questo è un altro passaggio che dobbiamo fare tutti quanti insieme per cercare di ottimizzare ancora di più questo processo di gestione dei rifiuti. Questo nuovo piano di sensibilizzazione, questo nuovo piano che parte adesso e poi sarà successivamente approfondito, parte dal presupposto che noi dobbiamo aumentare la parte dei rifiuti differenziati. L'indifferenziato deve diminuire, l'indifferenziato costa e quindi noi dobbiamo puntare a diminuirlo. Cercheremo oggi di spiegarlo in tutti i modi, che questo è un obiettivo primario che noi ci dobbiamo dare. L'indifferenziato è una cosa che deve diminuire, è inutile che ci si lamenta, noi abbiamo cercato di ottimizzare con dei passaggi, sempre in quell'obiettivo, l'obiettivo nostro è sempre quello, cercare di minimizzare i costi nell'ottica di ridurre le tasse per i cittadini. I dati sono molto soddisfacenti, comunque abbiamo superato il 60%, ma dobbiamo necessariamente fare un ulteriore passaggio per ottenere una percentuale più alta. Voi sapete che la normativa impone il raggiungimento del 65% al 2020, noi ci siamo molto vicini già molto tempo prima, però è necessario mettere in moto dei meccanismi necessari, quindi cercare di ridurre la quantità di secco, in realtà però non è di secco residuo, perché la gente ha purtroppo anche delle cattive abitudini o delle cattive informazioni. Riallacciandomi a quello che ha detto l'assessore, è importante dare delle informazioni dettagliate, perché il primo anno è stato un po' di rodaggio, di messa al regime, ed è andata già molto bene. Quindi quello che dobbiamo fare è migliorare e possiamo raggiungere anche risultati elevati, anche il 70% auspico io, facendo questi doverosi passaggi. Diminuiscono le rapine in banking in Calabria nei primi nove mesi del 2017, infatti sono stati due i colpi allo sportello effettuati nella regione, contro i cinque dello stesso periodo del 2016, con un calo del 60%. E questa è la fotografia che emerge dai dati di OSSIF, il centro di ricerca ABI, in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un non calo del fenomeno a livello nazionale. Complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 298 nei primi nove mesi del 2016 a 188 del 2017, meno 36,9%. Associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato e altri reati fiscali. Queste le accuse mosse dal procuratore di Paola, Pierpaolo Bruni, che ha emesso 12 misure cautelari in carcere, due domiciliari e un sequestro preventivo di beni per oltre 33 milioni di euro nel corso di un'operazione eseguita questa mattina dai militari del comando provinciale della GDF di Cosenza. L'attività di indagine ha interessato le condotte illecite compiute da un'associazione a delinquere con base nell'alto di Reno-Cosentino, ma con ramificazioni in diverse regioni d'Italia, costituita da almeno 14 soggetti che, attraverso la costituzione e gestione di 24 società intestate a prestanome, avrebbe creato fittizi e crediti IVA da utilizzare in compensazione per il pagamento di contributi, imposte, ritenute e cartelle esattoriali. Il programma criminoso associativo si sarebbe dunque basato sulla costituzione di 24 società sparse nell'intero territorio nazionale ed operanti nei più svariati settori economici come la pubblicità, parchi di divertimento, locazione di immobili, fabbricazione di macchine per alimenti e bevande, ristorazione e noleggio a autovetture, pubbliche relazioni, ricerche di mercato e consulenza amministrativa. In particolare è stato disposto il sequestro preventivo di 24 società, 41 immobili, siti nelle province di Cosenza, Potenza, Mantua, Modena e Venezia, una villa di pregio, quattro terreni, due parchi acquatici, 50 automezzi, e beni di interesse artistico e storico. L'obiettivo finale era quello di precostituirsi degli ingenti crediti d'imposta da poter utilizzare in compensazione, di ritenute, anche al fine di precostituirsi dei futuri trattamenti pensionistici di assoluto riguardo. Credo che l'importanza di questa indagine sia stata quella proprio di riaffermare la legalità economico-finanziaria in un contesto territoriale difficile, impegnativo, e anche quello di recuperare alle casse del erario importanti risorse economiche attraverso l'esecuzione di sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente per un ammontare complessivo superiore a 33 milioni di euro. Maltrattavano i bimbi di una scuola dell'infanzia a San Giorgio Albanese. Per questo due maestre sono state interdette per sette mesi dai loro incarichi. La misura è stata eseguita dai carabinieri su disposizione del GIP del Tribunale di Castrovilleri. Le indagini, coordinate dalla Procura della città del Pollino, sono state avviate a seguito di una denuncia presentata da alcuni genitori. Con i servizi di osservazione e videoriprese all'interno della scuola, sono stati documentati diversi episodi di maltrattamenti effettuati dalle due insegnanti nei confronti dei bambini a loro affidati. Una decina, il tutto in un arco temporale di appena 15 giorni. Le due donne avrebbero sottoposto i bambini a continue minacce verbali con affermazioni quali se non fai il bravo ti faccio il pungi-pungi, ma anche a violenze fisiche con pizzicotti, schiaffi e tirate d'orecchie, arrivando ad utilizzare, tra l'altro, un righello di plastica giungendo in una occasione a lanciare senza alcun motivo apparente dei giocattoli violentemente contro un muro per spaventare i piccoli. Tra i bimbi ci sono anche alcuni figli di rifugiati politici accolti in Italia. Le due insegnanti hanno anche indotto i bimbi a risolvere fra di loro delle piccole controversie, ricorrendo alle mani o emulando le stesse loro condotte violente. Un incidente stradale che ha provocato quattro feriti si è verificato giovedì mattina sulla strada statale 106 Ionica nei pressi di Villa Piana. I feriti, che sarebbero cittadini extracomunitari, sono però poi fuggiti e sono adesso ricercati dai carabinieri che stanno anche verificando le cause del sinistro. Sul posto per i soccorsi si sono recati nell'immediato anche i sanitari delle 118 ed alcuni operatori della protezione civile. Divieto di accesso all'ospedale di Locri per gli amministratori locali e per i giornalisti. Non si tratta di una bufala, ma dell'ultima disposizione della direzione sanitaria del nosocomio con nota protocollata dal 12 dicembre è indirizzata al servizio di vigilanza Europol a tutto il personale del presidio ospedaliero, nonché a tutta la dirigenza. Un provvedimento adottato secondo la direzione perché troppo spesso soggetti non autorizzati accedono all'ospedale senza una preventiva autorizzazione da parte degli organi preposti. L'intenzione sulla carta dunque è quella di garantire e tutelare la privacy dei pazienti dell'ospedale con l'ulteriore invito rivolto al personale non divulgare notizie se non regolarmente autorizzate. La risposta del sindaco di Locri Calabrese non si è fatta attendere. Il primo cittadino infatti ha parlato di minacce al personale dell'ospedale e ha di fatto bollato la disposizione come un chiaro tentativo di censurare denunce e inchieste del sindaco e dei giornalisti su quella che è stata definita una vera e propria emergenza sanitaria. Continueremo a denunciare con maggiore vigore ha detto proprio Calabrese l'incapacità di chi amministra la sanità senza preoccuparci di ridicole ed assurde disposizioni di servizio. Sulla grave situazione del pronto soccorso di Locri si fa sentire anche la Will FPL di Reggio Calabria che ha chiesto un tempestivo intervento dell'ispettorato del lavoro reggino per accertare eventuali violazioni delle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori. Sarà tre volte Natale il titolo scelto per il programma di eventi promosso dall'amministrazione comunale che animerà il centro storico di Catanzaro per il periodo delle festività. Il concertone di Capodanno in Piazza Prefettura vedrà salire sul palco la band delle vibrazioni reduce dalla reunion delle scorse settimane. Il rapper Johnny Scandale è lo speaker Fernando Proce di RTL 125 a presentare i dettagli del cartellone sono stati il sindaco Sergio Abramo e gli assessori alla cultura cardamone alla turismo e spettacola Alessandra Lubello e alle attività economiche Sculco. Abbiamo voluto quest'anno cambiare la formula detto il sindaco e puntare piuttosto che sui concerti al chiuso su una serie di iniziative in grado di animare Corso Mazzini accompagnando le passeggiate all'insegno della cultura e del divertimento. Presentazione delle iniziative natalizie un programma molto vario peraltro anche il suo concerto di Capodanno. Sì, ci siamo riusciti all'ultimo momento visto le difficoltà che abbiamo avuto con la variazione del bilancio però alla fine è stato fatto un ottimo programma anche dagli assessori dal vice sindaco assessore alla cultura da Alessandra Lubello attività economiche di tutta la giunta è un bel programma che è concentrato prevalentemente sul centro storico e a differenza dell'anno scorso gli spettacoli sono stati di alta qualità ma nel chiuso adesso abbiamo preferito riempire di contenuti artistici la passeggiata di Corso Mazzini che per noi è molto più importante in questo momento in cui il centro sta soffrendo dal punto di vista commerciale quindi un richiamo ai nostri concittadini a partecipare a queste manifestazioni a riempire il centro storico durante il periodo natalizio poi ci saranno anche comunque concerti nelle chiese al Politeama al Comunale quindi anche quelle le abbiamo fatte e poi siamo riusciti comunque nonostante gli errori dell'IVA sulla gara d'appalto siamo riusciti a trovare questo manager che ci porterà a questo gruppo abbastanza noto anche per la notte di Capodanno quindi credo che sia stato fatto veramente un buon lavoro soprattutto anche dai nostri dirigenti dai nostri tecnici oltre che gli assessori in tempi brevissimi quindi è stato veramente un miracolo così come è stato un miracolo riuscire per tradizione ad aprire luci il giorno dell'Immacolata è stata una cerimonia semplice ma sentita e voluta per ringraziare i dipendenti andati in pensione nel corso dell'anno quella che si svolta nella sala concerti di Palazzo De Nobile a Catanzaro lo hanno rimarcato il sindaco Sergio Abramo e l'assessore alla personale Danilo Russo nel loro messaggio di saluto a ricevere il riconoscimento sono stati Carmelo Gabrielli Claudio Confessore Virginia Petrone Franco Rotundo Margherita Greco Rita Santopolo Giuseppina Catanzariti Paola Giacinti Giovanna Versa Luigi Gironda Bruno Greco Giovanni Ciampa Pasquale Grattarotti e Maria Cristina Giacobbe Arisa Goran Bregovic Baustelle Max Gazze Vinicio Caposela sono solo alcuni dei nomi che hanno reso interessante e indimenticabile la quindicesima edizione del Festival d'autunno svoltasi a Catanzaro con un'uscita anche a Soverato il 10 di agosto un bilancio più che positivo ha fermato ai nostri microfoni il direttore artistico della Rassegna Antonietta Santacroce Sì, un bilancio estremamente positivo per quel che riguarda il cartellone del Festival che è notorio ha proposto 12 eventi di alta caratura culturale e anche spettacolistica che hanno visto appunto in scena artisti di calibro nazionale e internazionale tutto ambientato appunto nel centro storico quindi a partire da Arisa poi i ritmi gitani di Goran Bregovic il pop rock sofisticatissimo dei Baustel il concerto l'unico tenuto soverato per quest'anno di Max Gazet che è veramente stato un bagno di folla e con i suoi ritmi travolgenti ha reso ancora più interessante e travolgente la notte di San Lorenzo e poi una serie di eventi culturali con nomi di altissimo profilo basti citare appunto Armin Wolf e tantissimi altri e poi la conclusione affidata appunto a un personaggio geniale eclettico che non si ripete mai come Vinicio Caposela che appunto il 17 novembre ha concluso questa quindicestima edizione di Festival d'autunno ed ora afferma la Santa Croce il pensiero è già rivolto al futuro per il futuro mantenremo la formula dell'anticipazione estiva già coniata quest'anno anche se diciamo il centro del festival sarà torneremo alla formula autunnale però con delle anticipazioni in estate che bisognerà poi valutare dove tenerle perché purtroppo la terrazza del San Giovanni rimane inagibile e almeno per i Vigili del Fuoco ne è consentito l'uso solo a 150 persone quindi sarà un'ottima location per le feste private ma certo non per i grandi eventi che Festival d'autunno aveva immaginato di tenere lì per rendere attrattivo il centro storico di Catanzaro anche nel periodo estivo purtroppo non se ne potrà fare nulla neanche l'anno prossimo e sicuramente la sezione estiva di Festival d'autunno appunto si terrà laddove ci saranno le condizioni più propizie e che valorizzeranno maggiormente i nostri eventi tornare alla goal sarebbe bello ed importante ma ancora più importante sarebbe tornare a vincere dopo un mese di astinenza così ante Budimir a pochi giorni da Crotone Chievo-Verona sfida fondamentale in chiave salvezza per il Rosso-Blu che si preparano agli ordini di Walter Zenga per questo incontro di notevole importanza dopo 4 KO consecutivi subiti Budimir non segna dalla gara vittoriosa di Bologna anche se è stato proprio lui a causare l'autorete delle difensore del Sassuola Cerbi domenica scorsa a Reggio Emilia l'attaccante croato sa che domenica gli squali non possono fallire lo sappiamo che Chievo è una squadra in salute sono una squadra tosta anche hanno un bel gioco però niente noi prima possibile dobbiamo cercare di avere il nostro inizio uscita come davvero nella nostra casa nel nostro bunker dove vinciamo noi quindi dobbiamo pensare a noi stessi facendo quello che abbiamo fatti fino ad adesso e come detto capire prima possibile tutte le piccole cose che le chiede mister e poi arriveranno i risultati domenica sono sicuro che mettiamo tutti noi il nostro massimo e poi noi trasciniamo la gente e trasmettiamo quella energia poi lo sappiamo tutti che Enzio Scida allo stadio è sempre vicino a noi e speriamo che domenica c'è tanta gente e facciamo tutti insieme un buon risultato Sì domenica come ho detto già prima vogliamo fare il risultato e poi dobbiamo fare tutti tutti in servizio di questo quello che possiamo fare io come attaccante certo cerco a fare i gol fare quello che serve per la squadra però ripeto vogliamo fare il risultato quello alla fine quando finisce la partita penso che quello è l'unica cosa che conta il catanzaro sta crescendo e vuole proseguire su questa scia che ha fruttato tre vittorie nelle ultime quattro uscite corriamo tanto e stiamo giocando bene grazie a mister Dionigi che ci ha imposto ritmi alti di intensità anche negli allenamenti in attacco c'è molta concorrenza per tre maglie ma sono contento di essere riuscito a ritagliarmi un mio spazio così l'attaccante del catanzaro calcio Antonio Lucanovic in conferenza stampa qualche giorno prima della sfida alla Paganese ma sicuramente mi ha fatto piacere giocare un po' di più visto che fino ad ora in campionato non ho giocato tanto ci sono le assenze importanti quindi si trova più spazio potrebbe essere una buona occasione in queste partite che sono rimaste qua per partire titolare ovviamente ma nessun messaggio abbiamo avuto tanto tempo di preparare questa partita io mi sento bene sono allenato bene quindi mister deve decidere chi inizierà la partita sicuramente stiamo tutti molto bene si vive più tranquilli si allena meglio si ride di più ma siamo siamo consapevoli che qua bisogna fare sempre bene ma insomma abbiamo fatto tanta forza fisica penso che anche si vede quindi più questo visto che prima si faceva un po' meno sono molto organizzati pure questo ci dà una mano quindi preparano bene le partite e in ogni momento sappiamo cosa dobbiamo fare un po' meno Autore dei sovrapposti